Si chiamava Inessa Polenko, era una bellissima influencer russa di 39 anni di età. Pensate che questa donna non c'è più, infatti è passata a miglior vita e morta. Come ha fatto a morire a soli 39 anni di età? Incidente, automobilistico, malattia, patologia? No, semplicemente era andata sulla piattaforma proibita per farsi un selfie, il selfie forse perfetto, che magari molti di noi aspirano ad avere l'affare, ebbene sì, è precipitata e poi è morta, è deceduta. Il video terribile della caduta, non vi consiglio di vederlo se lo trovate sul web perché è molto molto triste e devastante. L'incidente si è verificato precisamente sul Mar Nero dove la donna in questione stava in vacanza. Una vacanza doveva essere di piena spensieratezza, doveva essere una vacanza come tante altre. Bene, è fine in tragedia, la donna è morta. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Ciao a tutti, in essa riposi in bacia.